Sono 16 su un totale di 67 iscritti, i piecentini che hanno accettato la sfida lanciata da Conf Cooperative e che hanno preso parte al Social Hackathon, l'iniziativa che per tutta la giornata vede impegnate l'Urban Hub sviluppatori, designer e comunicatori per la maratona di idee con l'obiettivo di trovare soluzioni ai bisogni di relazione tra utenti, famiglie e servizi di tutto il territorio, sfruttando app, software e hardware. È una sfida che è stata lanciata da alcune cooperative sociali che gestiscono tra l'altro molti servizi sia pubblici che privati nell'ambito dell'assistenza agli anziani, nelle politiche per l'infanzia e quindi abbiamo voluto lanciare questa sfida in cui sono impegnati informatici, sviluppatori, tecnici, esperti alla comunicazione per in una giornata intera cercare di dare risposta a quelle che sono le problematiche che emergono appunto in questo rapporto tra soggetti gestori di servizi e utenza. Quindi tutta una giornata appunto di innovazione che avrà anche a beneficio l'intera comunità. Numerosa la presenza di studenti che hanno aderito all'iniziativa anche grazie alla discesa in campo in prima persona di Università Cattolica, Politecnico e Aster, la società consortile dell'Emilia-Romagna per l'innovazione e il trasferimento tecnologico. Tra i mentor, le figure che affiancano i giovani nella progettazione, anche la piacentina Angelica Fontana. Il mio ruolo è di supportare i partecipanti all'Hackathon di oggi nel analizzare quello che è l'esperienza delle persone rispetto alle sfide che andranno a svolgere e a studiare durante il corso della giornata.